Se dovessi scegliere fra pillola rossa, torno all'età dei sei anni, con tutte le conoscenze che hai oggi, oppure pillola blu, dieci milioni di euro, tu quale sceglieresti? Ok, ora a parte che questi qui sono dei Lego e non sono delle pillole, e io non sono Morpheus soprattutto, e qui non siamo in Matrix, ho posto questa domanda sul tab community di Vanilla Magazine, di YouTube, sul mio profilo Facebook e sul mio profilo Instagram. Sono venute fuori centinaia di risposte, pensavo fosse una domanda, come dire, banale, che non riscuotesse né così tanto successo e soprattutto non smuovesse me così tanto dall'interno nel farmi riflettere, e quindi ho pensato di proporvelo come sondaggio e di proporvi tutte le risposte che avete dato. Secondo me sono interessantissime, è venuta fuori un'umanità pazzesca che mi ha fatto riflettere di brutto, è proprio stranissimo perché parti da un post facile, strano, leggero, e invece approfondisci e ognuno di noi che commenta racconta la propria storia. I prossimi minuti leggerò le vostre risposte, non tutte naturalmente perché sono quasi 500 su YouTube, quasi 200 su Instagram e quasi 300 su Facebook, quindi un totale di un migliaio di risposte, non tutte, alcune fra le più lunghe, alcune fra le più interessanti, alcune che non si sono ripetute e sostanzialmente perché tante persone hanno detto circa cose simili, ecco. Quindi andiamo a vedere che cosa è significato per voi questa domanda. Per conoscere la mia di risposta naturalmente dovrete aspettare la fine del video. Leggerò soltanto i nomi e non i cognomi, li trovate, i post sono pubblici, li trovate nel tab community, nel mio profilo Instagram e nel mio profilo Facebook. Chi non mi segue, peggio per lui. Giacomo dice Dipende se intendi avere sei anni perché torno indietro nel tempo, quindi anni 80 per me, oppure avere sei anni nel 2023. Tornando indietro negli anni 80 avrei in pratica sia pillola rossa che pillola blu, perché nel tempo investirei pochi soldi che avrei in modo infallibile, Google, Amazon, Pfizer, i primi Bitcoin, eccetera. Appena ne sentirei parlare. 500.000 lire di mance che in 10-20 anni diventerebbero milioni di euro senza far nulla. Eh, poterlo fare mi mette di buon umore soltanto immaginarlo. Sì, la domanda è giusta, ovvero che cosa fai? Torni all'età in cui avevi sei anni oppure adesso hai sei anni? No, chiaramente torni all'età in cui all'epoca avevi sei anni, quindi per me, ad esempio, io ho 40 anni, torni a quando io avevo sei anni, cioè nel 1988-89, ecco. Giuseppe ci dice Scegliere la pillola rossa è come essere Biff Tannen in Ritorno al Futuro 2, fra l'altro. Quella macro sportivo 1955-2000 in tasca, ve lo faccio vedere perché l'ho trovato prima sul web. La risposta mi sembra ovvia a questo punto, quindi è chiaro che tornando indietro avresti comunque i soldi. Ma, ma, le risposte che danno dopo a tantissimi altri utenti vedrete che sconfessano un po' questa qui. Asturm dice Per una questione di logica prenderei la pillola rossa. Nella mia vita l'unico errore è stato dare fiducia e dare tempo a persone sbagliate. Solo eliminando quello, oggi tutto sarebbe differente. Mr. Sonic Boom Diciamo che ciò che implica la pillola rossa può essere considerato come uno dei miei sogni più reconditi. Eppure, probabilmente, sarei costretto a fingere di essere un'altra persona agli occhi degli altri per sembrare un bambino normale, e fingere per almeno sei anni della mia vita sarebbe snervante. Però, dall'altro lato, potrei rimediare a un miliardo di errori e soprattutto cercando di rafforzare le poche amicizie che avevo senza farmele scivolare via. A parte questo, la pillola blu è decisamente la scelta più comoda e immediata e con meno rischi. The Knob YouTube dice Pillola blu La mia infanzia non è stata facile con la perdita di mio padre, i miei vari problemi fisici e di salute che mi hanno costretto ad andare negli ospedali diverse volte all'anno, fino ai miei 18 anni. Lucio dice Bel dilemma, credo la pillola rossa. Il calore della famiglia che avevo a sei anni non lo troverò mai più. Inoltre, con l'esperienza di oggi, non rifarei più certi errori così drammatici che mi saranno cari per tutta la vita. Carpi dice Penso che crescere dai sei anni con le conoscenze di un trentenne mi porterebbe ad avere più disagi di quanti già ne abbia. Mi prendo la pillola rossa e tanti saluti. Barbold dice Pillola blu, sempre. Indietro non si torna mai. E se lo facessimo, probabilmente perderemmo tutte le esperienze, sia positive che negative, passate. Esperienze che, volenti o nolenti, ci hanno portato ad essere, in questo istante, le persone che siamo, che piaccia oppure no. Come disse un grande uomo, tutto è determinato da forze su cui non abbiamo nessun controllo. Sia se siamo insetti o stelle, esseri umani, vegetali o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile. Quindi arraffo la pillola blu e vedo di divertirmi il più possibile, prima di tornare a essere polvere cosmica. Francesco dice Pillola rossa, vorrei tornare indietro per sterzare a destra invece che a sinistra, come avevo fatto, con la consapevolezza che, con le nuove scelte, potrei peggiorare di più le cose, ma correrei il rischio. Valeria dice Avrei detto poter tornare indietro e rimediare a tanti errori familiari e personali, con la consapevolezza di oggi, ma da ben pensarci. Chi ascolterebbe una bambinetta di sei anni? Dover rivivere l'infanzia dalle suore, l'adolescente e la scuola che non ho scelto io e che tanto detestavo che comunque sarei nuovamente costretta a frequentare. Tutti gli obblighi e i divieti imposti fino a una certa età. No, grazie, non potrei reggere ancora. Sceglierei la bella pillola blu e con dieci milioni salviamo il salvabile. Alessandro dice Se tornassi indietro ai sei anni con le conoscenze di adesso, sarei una rompiballe galattica e infelice proprio perché so. In più l'ambiente sarebbe lo stesso e potrei migliorare ben poco. Verrei sottoposta a terapie mediche che all'epoca non erano il massimo. Quindi prendo i soldi e scappo. Mi occupo dei miei cari al meglio e aiuto tutti i rifugi di animali che riesco. Pillola blu Tornare indietro, dice Chris Karma, implicherebbe agire sul futuro. Combinerei un casino conoscendomi. E comunque, Google, il telefono che fa a foto e i gif li avevo già sognati. Io prendo i soldi senza dubbio. Anche se ritornare piccina mi piacerebbe. So che mio figlio mi mancherebbe troppo. Riccardo Cinicamente i 10 milioni. Non essendo di grandi pretesi semplificherei la vita a molte persone, ma di cuore tutta la vita la pillola rossa. Sono orfano e mi mancano, anche se è passato tanto tempo. Soprattutto gli darei qualche soddisfazione in più e qualche grattacapo in meno. Sicuramente, dice Liu Chan, la pillola blu. Con la mente che ho adesso non potrei sopportare i miei genitori. E poi vivere all'infanzia e alla giovinezza con quell'ingenuità che si ha in quei periodi è molto meglio. Si è più spontanei e si vive intensamente, senza calcoli né preoccupazioni. Martina, dice, pillola rossa. Assolutamente eccellerei in ogni materia, conseguirei ottimi risultati e mi si prospetterebbe una brillante carriera futura. Inoltre, direi mio padre di curarsi subito. Gli farei fare ogni esame per prevedere il suo infarto. Magari esistesse quella pillola, potrei cancellare ogni mio sbaglio scelta. Potessi tornare indietro, cambierei completamente la mia vita. L'unica cosa che non cambierei è la serenità della mia famiglia, la mia beata infanzia. Elvis sa, dice, distinto ho pensato alla pillola. Avere la possibilità di far sfruttare al meglio le conoscenze e l'esperienza che ho, in campo nozionistico ed emotivo. Però poi ho pensato, sono abbastanza giovane, ho 35 anni, e con una cifra del genere potrei ancora crearmi altre possibilità. Lo scopo di entrambe le scelte per me sarebbe lavorare per vivere, non il contrario, ed avere una vita serena e in salute. Con la pillola blu ciò da adesso in poi sarebbe possibile. E quando parlo di salute, parlo di accesso alle cure e di prevenzione. Luca dice, pillola rossa sicuramente. Progetterei un social network come Facebook e Instagram prima di Zuckerberg e rivenderei al migliore offerente una volta raggiunto un prezzo di svariati milioni. E poi camperei di rendita senza preoccupazioni, coltivando i miei hobby. Cristiana dice, pillola blu, ho avuto un'infanzia travagliata, che già comprendevo abbastanza allora. Ora, pensa con la mente di oggi. Trascorrerei anni da 43enne, incastrata in un corpo di sei, con piena coscienza. La conoscenza di oggi a vent'anni già sarebbe un altro discorso. Invece, con tutti quei soldi aiuterei tantissima gente, me stessa e tutta la famiglia. La spiritualità mi accompagna già, e poi ha voglia ancora imparare. Daphne dice, blu, a questa età non mi interessa riavvolgere il nastro e ricominciare da capo. Avrei invece un sacco di idee su come rendere gli anni che mi restano una meraviglia. Rhyme ramma, o qualcosa del genere. Se ritorno indietro nel tempo, ma con le conoscenze di oggi, credo che non farei nulla di che, probabilmente farei di peggio. Prendo la blu per non avere problemi. Pierre, Pier Carlo. Blu sicuramente. Ho commesso tanti errori in passato, alcuni di cui ho vergogna, altri trascurabili. Ma mi hanno reso l'uomo che sono con la famiglia che ho. E tornare indietro rischiando di non avere ciò non lo farei mai. Meglio farsi coraggio e risolvere le situazioni scomode adesso piuttosto che ripetere tutto in maniera liscia. Tommaso dice, pillola rossa. Certamente con 10 milioni sarei a posto per vita intere. Però per vicende personali, un riprendere i salvataggi di backup con il famoso senno del poi mi farebbe comodo. Probabilmente mi darebbe più soddisfazioni delle cose che potrei comprare con tutti quei soldi. Ale dice, non ne sono sicurissimo, ma credo pillola rossa. Fin dai 4 anni ho sempre avuto il terrore del tempo che passa e della morte. Ora non mi importa più, perché la mia depressione è peggiorata, ma mi manca quella paura di morire, perché almeno sentivo di avere qualcosa da perdere. Tornerei indietro nella speranza di riacquistare quell'energia mentale e quell'immaginazione che mi facevano sentire di avere qualcosa da perdere. E potrà sembrare un controsenso, ma magari con le conoscenze che ho ora sarei un bambino molto meno ansioso, riuscirai a imparare meglio da certe esperienze, a godermi di più determinati momenti, a non fare diversi errori e a riavere un po' di calore familiare e a poter passare più tempo e di migliore qualità con alcune persone. Tanto ho sempre fatto schifo a fare il bambino. Per chi mi vedeva dall'esterno ero un mostro apatico che sembrava mentalmente troppo vecchio e troppo poco carino e allegro per l'età che doveva avere, quindi fare di nuovo schifo e sembrare mentalmente un bambino non mi peserebbe un granché. D'altra parte i soldi danno più sicurezza, ma non credo mi aiuterebbero a migliorare me stesso, quindi la prima idea che ho avuto istintivamente è stata la pillola rossa. A Radia. La rossa no, nel modo più assoluto. Ciò che è stato è stato, ed è ciò che mi ha permesso di diventare la donna che sono oggi. Senza gli ostacoli, gli errori, non sarei io, e comunque ce ne sarebbero sicuramente degli altri da affrontare. Sarei sicuramente andata via dall'Italia prima, ma in fin dei conti ho visto posti che molti non hanno avuto modo di vedere, vissute esperienze uniche e anche grazie al dolore che avevo dentro. Mi sono messa in gioco e dimostrato a me stessa che sono in grado di fare qualsiasi cosa se davvero voglio. La mia adolescenza è stata dura, non vorrei rifare la stessa esperienza se dovessi tornare indietro, vorrei vivere nell'epoca vittoriana. La blu è facile dire sì, la parte materiale di me saprebbe cosa farne, ma ahimè, anche quella forse non sarebbe una scelta saggia. I soldi sono solo un mezzo, ma non ti danno nulla se tu non sai trasformarli. Sono le idee, la creatività, la curiosità e la dedizione che ci fanno avanzare. Ciò che più desidero è la sapienza e i soldi non possono comprarla. Alla fine, se proprio dovessi scegliere, direi blu, ma se la pillola rossa mi permettesse di vivere o vedere altre epoche, la cosa mi incuriosirebbe. Dice Otaku Wannabi. Otaku Wannabi. Ho avuto una bella infanzia, ma quello che ho dovuto attraversare dopo non lo ripeterei mai. A fronte delle mie conoscenze non so se potrei cambiare quello che è successo. Qualcosa mi dice che il destino farebbe comunque in modo di far ripresentare le stesse situazioni anche con modalità diverse. Prendo i soldi, poveri e felici, funziona solo se si abita su un'isola sperduta e si vive di caccia raccolta come al principio dei tempi. Credo che 10 milioni mi darebbero la possibilità di occuparmi un po' più di me, di staccare, e allora sì che sarei felice. Dice Andy, torno a sei anni con le conoscenze che ho oggi, sapendo gli eventi futuri, farei tutti i soldi che voglio. Unica linea per me importante da tenere sarebbe quella di rincontrare le persone speciali che fino a oggi mi hanno permesso di dare e ricevere amore. Tutti questi commenti qua sono arrivati nel tab community di YouTube e se ne erano tanti, secondo me, molto molto lunghi. Su Instagram vedrete che sono un pochino più brevi alcuni, non tutti, probabilmente perché si iscrive sempre al cellulare. Su Facebook invece siamo lì sulla media, anche Facebook siamo simili a YouTube. Da questa prima carrellata, secondo me, viene fuori una cosa importantissima, ovvero quanti di noi hanno rimpianti, no, il famoso rimorso, la differenza fra rimorso e rimpianto, quanti sono contenti con se stessi oggi e quanti invece non lo sono e quanti invece magari pensano ai soldi, perché la domanda è sui soldi in realtà. Però la pillola rossa non ne parla implicitamente, mentre invece i soldi vengono chiamati in causa dalla pillola blu. Quindi la pillola rossa ti dà modo di fare più soldi, quindi prendo la rossa non per vivere cose diverse, ma per avere più soldi. Alcune persone la pensano così. Cominciamo con i commenti di Instagram. Valeria dice Matteo, ma sai quante volte mi sono immaginata questo sogno pazzesco? Non sei l'unica, Valeria, assolutamente. Theo Hollywood, che fra l'altro è un mio amico anche nella vita reale, quindi lo saluto. Il fatto è che la vera ricchezza credo sia poter vivere il proprio tempo. La pillola rossa ci permetterebbe di viverlo con più consapevolezza e chissà, forse anche di ottenere il denaro della pillola blu, ma non è scontato. La pillola blu, con le conoscenze acquisite a 40 anni, mi permetterebbe di vivere come voglio il mio tempo. Non è voler fare la vita da ricchi, ma il poter essere padroni del proprio destino e del proprio tempo, senza dover dipendere da simpatie e o giudizie altrui, e senza dover investire la maggior parte del proprio tempo al solo scopo di riuscire a pagare i conti. Maria dice La scelta più sensata è quella rossa, e senza avere le conoscenze che ho adesso, anzi, voglio tutta la mia spensieratezza dei sei anni. E la prima che dice, voglio tornare a sei anni e voglio tornare a vivere libero da tutti quei pensieri che hai quando sei adulto. John Maresi I soldi! Tornare a sei anni sarebbe una fregatura, ci vorrebbero dodici anni prima di essere autonomi. Quindi dovrei sottostare di nuovo ai miei, avere le voglie di un adulto, che abbiamo capito quali, ma non le potrei espletare. E la cosa che più mi fa scegliere, la blu, il mondo è sempre peggio, ecosistemi distrutti, eccetera. Non so se convenga così tanto tornare giovani, lui intendeva di tornare giovani adesso. Comunque è sicuramente interessantissima questa. Sarah, decisamente blu, ho la prova che si compra anche la salute, e quello che non mi servirà andrà ai miei figli. Vesper dice Pillola rossa, l'almanacco del 2000 insegna, e qui bam, biftannen. Vercalit Pillola blu, troppa fatica a rifare tutto da capo, anche con tutte le mie conoscenze attuali, e poi i miei genitori sono insopportabili. La Luana, una bambina di sei anni con la mia conoscenza, mi esploderebbe il cervello, anche se i soldi non rendono migliori, danno la possibilità di creare qualcosa, appunto avendo la conoscenza di un adulto. Si intende sempre un adulto con una coscienza, non solo conoscenza. Anikin dice La blu, perché A. Amo la vita e le persone che ho accanto adesso, B. Potrei aiutare qualcuno che ha bisogno, C. La vita ci conduce sul percorso che dobbiamo intraprendere con i nostri successi e i nostri errori. L'accettazione è una parte importante. Gabriele dice Un po' come morire anziani e rinascere ricordando la vita precedente. Quanti errori in meno e quanta minore necessità della compressa azzurra. Friedrich dice E dover rifare medie superiori in università, per giunta, annoiandomi a morte, perché la maggior parte delle cose le conosco già? No, no, mi prendo la blu. Rossella dice Pillola rossa per sempre. Così potrei stare a riabbracciare i miei nonni e stare con loro il più tempo possibile, cosa che ho trascurato un pochino quando ero bambina. Alessandro dice Assolutamente pillola blu. È vero che il tempo non conta più. Ma, scusate, è vero che il tempo conta di più. Ma non è detto che si farebbero le scelte giuste. Anzi, probabilmente alcune scelte ritenute giuste risulterebbero sbagliate alla lunga o avrebbero conseguenze tragiche. Quindi, noi è vero che torniamo indietro con la coscienza e le conoscenze che abbiamo oggi. Però, non lo so, compri 20 bitcoin, magari cambia il mondo, no? Vi ricordate la farfalla che sbatte le ali e che muove la luna? Ecco, quello è un po' il ragionamento. In più, il bello della vita è l'unicità del tempo, delle esperienze fatte e anche delle scelte fatte. Probabilmente ci si ritroverebbe a rimpiangere le scelte fatte e l'aver perso le persone conosciute. 10 milioni risolverebbero tante cose e renderebbero felici per il resto della vita, oltre che aiutare chi ci sta intorno. E poi, volete mettere che antipatia è un bambino di 6 anni che ragiona da trentenne? Che vita noiosa sarebbe? Pant dice, 10 milioni sicuri, bella la pillola rossa, ma comunque non si ha la certezza di riuscire, nonostante le consapevolezze d'adulto. Ambaravaciccocò, ma torna ad avere 6 anni ai giorni nostri indietro nel tempo quando ne avevi effettivamente 6, perché allora comprerai tantissimi bitcoin. E quindi questa cosa di bitcoin rimane per tutti, poi peraltro il pentimento di non aver comprato i bitcoin quando valevano 100 euro e quindi diventare milionari. Questi erano tutti i commenti Instagram, secondo me interessanti come gli altri. Adesso passiamo ai commenti Facebook. Marina, un'altra mia che conosco direttamente dal vivo. Io vado di blu semplicemente perché tornare a 6 anni e rivivere tutta la vita e tutti i periodi orrendi già passati, lutti inclusi, mi sembrerebbe un incubo. Rivivere l'infanzia e la gioventù senza la spensieratezza di quell'età sarebbe inutile. Sia mai che tornando indietro io non finisca per modificare il futuro. Potrei eliminare alcune scelte sbagliate, ma chi mi dice che riavrei quello che ho ora? Io adesso sono felice, ho quello che desideravo e non vorrei altro. Sicuramente con quei soldi in più sarei ancora più a posto. Pietro dice, nessuna delle due. Nel caso della rossa, pur con le conoscenze di oggi, non voglio rivivere il mio passato. Per la blu, quei soldi non mi darebbero la felicità e la serenità che ho oggi e verrei circondate da persone interessate soltanto ai soldi. Ivan dice, a 6 anni con le conoscenze di un quarantenne non me la godrei mai. Quella è un'età spensierata da vivere in totale ignoranza. Bella per quello. 10 milioni tutti e subito sull'unghia. Maria dice, con la rossa saprei di dover ricominciare tutti gli studi. Ma sapendo tutto quello che so, potrei rifare il percorso, ma questa volta senza perdere tempo, realizzando i miei sogni e evitando i casi umani. Sì, vorrei una seconda possibilità. Rossa, assolutamente. Aruspex dice, chi risponde è blu, ho avuto una vita di cacca o è al verde. Lei risponde, Grace, io tutte e due e pretendo rispetto. Questa non faceva granché riflettere, però mi ha fatto troppo ridere. Maira dice, difficile scegliere. La rossa mi darebbe l'opportunità di cambiare il passato, riviverlo in maniera diversa e avere un futuro diverso da questo. La pillola blu mi permetterebbe di avere un futuro diverso senza rivivere il passato. Se non voglio rivivere il passato, scelgo la blu. Se non mi dispiace, allora scelgo la rossa, così da poter fare scelte diverse e vedere come sarebbe stato sé. So solo che, bene o male, questo presente non mi dispiace e non vorrei perdere. Al massimo lo evolverei. Rivivere il passato forse mi porterebbe lontano da alcune cose che ho ora, anche se sarebbe bello rivivere la fanciullezza. Però, se tornassi con le conoscenze di oggi a sei anni, sarei intrappolata nelle restrizioni che hanno persone di quell'età e non potrei comunque fare tutto quello che voglio. Forse alla fine mi butterei il passato alle spalle e sceglierei la pillola blu per cambiare il futuro. Alessandra dice Pillola blu sono troppi, pillola rossa nemmeno. Io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza tranquilla. Era un periodo fantastico, gli anni 80, confermo in effetti. Ma non tornerai indietro. Piuttosto tornerai indietro di qualche anno per essere un pochino più giovane o fermerei il tempo ora. So davvero bene adesso, lavoro, salute, famiglia, svaghi, non mi manca nulla. Solo il tempo sfugge. Ecco, piuttosto una pillola blu ad osaggio ridotto, senza effetti collaterali. Quindi un po' di soldi ma non troppi. Ilaria dice Blu, mai guardarsi indietro. Vivere sempre nel presente. Se sei arrivato qui, fino a qui, con questi errori, se hai fatto questo percorso, c'è un significato. Sei come sei oggi perché hai fatto quel percorso. Con 10 milioni di euro oggi, quanto bene puoi fare al prossimo pur vivendo sereno? Oggi che hai più consapevolezza di ieri. Quindi oggi rispetto a ieri è già il futuro, no? Per esempio, oggi rispetto a quando ho fatto il sondaggio è già il futuro. Quindi avresti già una consapevolezza in più e la pillola blu con i 10 milioni. Annetta dice Vivere da capo, tutto di nuovo, terrorizzante. Inconsapevole dell'orrore del mondo? Cos'è un film horror? Prendo soldi e vado in vacanza. Grazie. Barbara dice Se avessi avuto tutte le conoscenze di oggi, a sei anni, avrei vissuto malissimo e non mi sarei goduta l'infanzia. Che è benedetta. Blu, tutta la vita. Francesca dice L'idea di rivivere tutto è già pesante in sé. Ma l'idea di rivivere tutto, senza incoscienza, è semplicemente intollerabile, un incubo. Per cui, prendo la blu, è alto l'andare. Almeno due risate, è probabile che me le faccia. Barbara, un'altra Barbara, dice Il passato si archivia, il presente si vive e il futuro si programma. Meglio programmarlo con 10 milioni di euro in tasca che senza. Questi erano i commenti di Facebook. Siamo arrivati alla fine. Interessanti. Quelli di Facebook, di Instagram, YouTube, secondo me in modo esattamente uguale. Sono venute fuori due scuole di pensiero. Ovvero chi riviverebbe la propria infanzia per correggere sostanzialmente i propri errori e arricchirsi perché compriamo bitcoin quando valgono 100 dollari. Compriamo Apple, Amazon, Google, eccetera. E chi invece vorrebbe prendere la pillola blu semplicemente per avere del denaro in più, per fare del bene, per stare bene lui, eccetera. Quindi sono due scuole di pensiero completamente diverse. Non c'è... Secondo me, la pillola rossa e la pillola blu sono proprio due filosofie di vita in realtà. Ovvero chi vuole correggere i propri errori, i propri sbagli e cambiare sostanzialmente il proprio presente, perché è quello il ragionamento che facciamo. Cambiamo il proprio presente pensando però di rimanere la stessa persona. Quindi noi diamo per scontato che la persona a che siamo arrivati adesso, ad esempio ho 40 anni, proprio l'età tonda perfetta secondo me per fare questo ragionamento, perché è l'età dei bilanci sostanzialmente. Ho 40 anni e sono arrivato qui come sono adesso. Ad esempio, sapete, ho scelto l'università sbagliata, ho fatto soltanto 15 esami di ingegneria, quindi non mi sono laureato, adesso devo tornare all'università con tutte le difficoltà di farlo lavorando con un'azienda aperta, famiglia, eccetera. Potrei correggere quell'errore, ma adesso non sarei la persona che sono. Quindi, in realtà, io, per arrivare alla conclusione, io avevo scelto all'inizio la pillola rossa. Mi aveva scritto un'amica su Messenger, mi aveva scritto ma tu quale pillola sceglieresti? Io avevo scelto subito la pillola rossa. Pensando al famoso almanacco di Biff, perché effettivamente le due pillole ti mettono in testa che stai ragionando per i soldi. Quindi, se tu dici, pillola rossa, pillola blu, prendo i 10 milioni adesso, ok, la pillola rossa sei ancora più avido, perché questa pillola qui vuol dire che potresti guadagnare infiniti soldi, sostanzialmente, con Bitcoin, Apple, Amazon, eccetera. Avevo risposto pillola rossa, leggendo tutti i vostri commenti, perché l'ho letto di tutti, in realtà. Non ho potuto leggerli tutti adesso, perché il video sarebbe venuto troppo lungo. Però, leggendo i vostri commenti, mi sono reso conto di questo. No, sceglierei sicuramente la pillola blu, perché la persona che sono adesso mi va bene, sostanzialmente sono soddisfatto della persona che sono ora, e quindi non riuscirei mai a essere la persona che sono ora, prendendo la pillola rossa. Perché inevitabilmente i cladi, per usare un termine scientifico, i cladi della vita, le vie della vita che sceglierei sarebbero diverse, e la persona che diverterei sarebbe sicuramente diversa. È un po' la sliding doors, sostanzialmente. Ma qui non si parla di una storia d'amore, si parla proprio dell'intera vita. Cioè, ti va bene, secondo me, come sei adesso? Oppure, vorresti avere più soldi, vorresti stare meglio, vorresti aver cambiato delle cose, per dire, ci sono persone che tornerebbero indietro, come abbiamo visto, perché vorrebbero rivivere meglio alcune cose della propria infanzia, stare di più con le persone che hanno amato, i nonni, i genitori, eccetera. Io credo semplicemente questo. Avrei scelto la rossa perché mi piacerebbe correggere gli errori. Sono uno che tendenzialmente vuole correggere gli errori. Lo faccio con i poveri, ragazzi, scusate, soprattutto Nicola e Roberta, i poveri autori di Vanilla Magazine, e correggerei anche i miei, comunque, perché ne faccio altre tanti quanto loro. e quindi avrei voluto correggere tante scelte sbagliate. Però, ragionando, ripeto, coi vostri commenti, sicuramente adesso sceglierei la pillola blu, perché inevitabilmente perdere tutto quello che ho adesso, a livello di affetti, a livello di esperienze di vita, perché tornando indietro, non faresti le stesse esperienze di vita perché le correggeresti. E quindi magari ne fareste altre non avendo vissuto quelle che hai vissuto, sarebbe troppo pesante, sarebbe troppo, sarebbe una perioda troppo grande per me, anche se ho fatto delle esperienze di vita più o meno normali, non ho fatto niente di che, ecco, però ce ne sono state alcune che sono state così totalizzanti per me che mi hanno reso la persona che sono adesso e che non vorrei mai perdere. E ho conosciuto persone e ho perso, persone a cui tenevo tantissimo, che è stato giusto perdere, anche se le stimo, anche se, come dire, mi è spiaciuto perderle, ma perdere qualcuno, anche solo a livello di amicizia, a livello affettivo, è importante nel proprio percorso di crescita. E ci si allena, adesso tiro fuori questa frase qui, visto che è un video lungo di quelli un po' a vlog, ci si allena moltissimo ad amare, tutti i film ci allenano ad amare, eccetera, ma non ci si allena mai a perdere, a perdere qualcuno qui che amiamo, o a vederlo andare via, o a vederlo allontanarsi, per le mille ragioni della vita, perché non ci si può spiegar sempre tutto. E tutte queste esperienze che ho fatto mi hanno reso la persona che sono. Persona abbastanza terribile, ecco, però soddisfatta di se stessa. Quindi, no, dopo aver letto tutti i vostri commenti, aver approfondito molto la riflessione, sono sicuro. Prenderei certamente la pillola blu, farei sinceramente un grande progetto di Vanilla Magazine, con i contro cocomeri, farei una mega redazione con tutti i ragazzi a scrivere e a produrre contenuti, a fare anzi il mio lavoro, che servono sicuramente tanti più bravi di me nel parlare in camera. E sì, farei questo, prenderei la pillola blu, farei un grande progetto editoriale, come intendo io, e via. Questa è la mia risposta definitiva, che ho cambiato proprio grazie ai vostri commenti, grazie alla forza della community di Vanilla Magazine. Una community che ho creato soltanto perché non ho mai preso la pillola rossa. Quindi, una community che si è creata soltanto perché ho vissuto la vita, il tempo è andato sempre soltanto in una direzione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, grazie a tutti per le vostre risposte, a presto. Prima che scappiate vi ricordo che questo video è stato caricato in modo velocissimo con la fibra di Spadausen. Per attivare anche voi la fibra e andare a 1000 megabit al secondo, fate la verifica della copertura con il link qua sotto in descrizione. Avrete anche un mese omaggio col codice Vanilla. Ciao!